L'obiettivo di Alessandro Lucarelli è quello di regalarsi tre punti mediante un successo allo Stadio San Marco per portarsi in solitaria in vetta. Alla classifica di fronte però un Guglielmo Bonati che vuole guastare i piani del tecnico neroverde e soprattutto far proseguire il processo di crescita del suo Delfino Flacco Porto che contro il Chieti scende nel capo secondo i canoni di un 3-5-2 con Petrarulo ed Incecco a comporre il reparto avanzato di contro. Lucarelli lascia in panchina Fabrizi, spada foro a fianca, Galli in attacco ma la partita può già svoltare in apertura intervento sconsiderato. Da parte di Verna i danni di Silvestri, Carluccio non ha dubbi e sventola il rosso diretto al centrocampista che dovrà saltare. La sfida con l'Aquila di domenica prossima allo Stadio Angelini. E allora prova subito ad approfittare della superiorità numerica il Delfino Flacco Porto che si rende pericoloso dalle parti di Matteo Forte sul versante opposto Nicolò Corticchi a creare maggiore scompiglio nella difesa pescarese con questo calcio di punizione. Quindi l'episodio in area di rigore per Francesco Dincecco va giù, il Delfino reclama un possibile calcio di rigore. Non ci sono però gli estremi per il tiro dagli 11 metri secondo il direttore di gara Aquilano ma resta più di un dubbio. Nel frangente Carluccio in confusione perché espelle per doppia munizione Silvestri, poi viene richiamato dall'assistente, torna sui suoi passi. Non era lui l'autore del fallo bensì Blasioli quindi niente rosso per il capitano. La battuta del calcio di punizione spada foro. Prima del duplice fischio parte meglio la squadra di Bonati nella ripresa, il mancino di Marzucco sul fondo. Quindi la chance mastodontica, super intervento su Dincecco da parte di Forti a porta sguarnita Petrarulo. Colpisce la traversa, un brivido per il Chieti che risponde con corticchia. Calore a deviare in corner tentativo di Siragusa tra le proteste della panchina bianca-azzura per un precedente intervento ai danni di Tine Mori. Non ravvisato da Carluccio, ne fa le spese il dirigente Roberto D'Agresta. Espulso direttamente poi sulla barriera Silvestri. Quindi chance per il Chieti Puglielli. Murato da Tomas Calore, quindi Rodia che deposita fuori Mattia Rodia e Fabrizi che nel frattempo avevano preso il posto di Galli e Spadafora. Fabrizi che sblocca l'incontro proprio nel finale dopo il gol con il lanciano splendido. Il lavoro di Puglielli sulla destra per il colpo di testa ad opera di Luca Fabrizi che ringrazia e mette alle spalle di calore un gol pesantissimo che permette al Chieti di guadagnare i tre punti e di presentarsi in vantaggio di tre lunghezze sull'Aquila. All'Angelini domenica prossima esultano i nero-verdi al centro del campo rammaricato. Guglielmo Bonati, la sua squadra ha disputato ad ogni modo una buona partita ma lo stadio San Marco passa il Chieti. A punteggio pieno il risultato finale del fino flacco porto zero. Chieti uno per Alessandro Lucarelli, un altro mattoncino verso la D.